Le parole del Premier Giuseppe Conte in conferenza stampa congiunta col Presidente del chat Idris Debi. L'ho sempre detto dal primo momento che ho iniziato questa esperienza di governo e l'ho ripetuto più volte anche nelle varie riunioni del Consiglio europeo che noi, l'Unione Europea, non può subire il traffico illegale di vite umane, non può rimanere sopraffatta da questa crudele realtà, ma deve prevenirla. Come pure deve prevenire le minacce terroristiche. Questi sono due fenomeni che hanno un impatto fortemente negativo, non solo qui in Africa, ma anche, come sapete, in Europa.